Questa sera l'appuntamento con la nostra rubrica TG2 Storie, vediamo un'anticipazione. Le memorie di Ezra Pound a Castelfontana in Tirolo, dove la figlia Mary conserva documenti ancora inediti. Viaggio nella cabina di comando di un treno ad alta velocità, in un affascinante connubio tra tecnologia e precisione. L'apprendistato retribuito in Alto Adige, tra scuola e lavoro nelle piccole imprese artigiane. E l'altra Juventus, a Castellamare di Stabia, che gioca in Serie C, non ha mai perso e vanta la migliore difesa del calcio professionistico. Questo e molto altro stasera a TG2 Storie.